Rivoluzione in giunta, esce Rosi, entra Del Soldato, l'addio dell'ex assessore di Massarosa per motivi professionali, innesca un waltzer di deleghe, Del Soldato prende l'urbanistica, Brocchini la programmazione, la sindaca le partecipate e Natali diventa vice sindaco. Calamità autunno 2023, risarcimento in arrivo per i pescatori, dalla Camera di Commercio fino a 2.500 euro a imbarcazione per le aziende danneggiate dal maltempo dello scorso anno, ma le cooperative di pescatori via Reggini restano escluse. Darsi scrive al sindaco per salvare i pini di via Savi, l'associazione impegnata nel rilancio del quartiere d'Arsana scrive al primo cittadino per scongiurare l'abbattimento di 20 pini previsto dall'intervento di sistemazione della strada. Il maltempo non ferma a convivere, debutto con il botto per il festival della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, cambio di location all'ultimo minuto per la serata inaugurale, protagonista il direttore scientifico Mauro Ceruti. Ben trovati spettatrici e spettatori del TG Noi, Versiglia e Costa Puana, apriamo questa edizione con la politica perché a Massaroza c'è stata una vera e propria rivoluzione in giunta. Ci racconta tutto Massimo Mazzolini. A metà del mandato amministrativo il comune di Massarosa vede significativi cambiamenti all'interno della propria giunta municipale. Un rinnovamento che porta nuove energie e competenze alla guida della città con l'obiettivo di affrontare le sfide amministrative con rinnovato impegno. Adolfo Del Soldato, già capogruppo del PD in Consiglio Comunale, è entrato ufficialmente in giunta. La sua nomina rappresenta un'importante svolta nell'amministrazione cittadina. A Del Soldato sono state assegnate, oltre a quelle che aveva come consigliere delegato, edilizia ed urbanistica, settori chiave per lo sviluppo territoriale e la gestione del patrimonio edilizio del comune. Contestualmente Stefano Natali è stato nominato nuovo vice sindaco, succedendo a Damasco Rosi. Quest'ultimo ha lasciato il suo incarico a causa di nuove responsabilità professionali, essendo stato disegnato come il nuovo direttore nella CNA provinciale. Edilizia e urbanistica verranno assegnate all'assessore Adolfo Del Soldato, che a questo punto entra effettivamente nella squadra di giunta. Per quanto invece riguarda le partecipate, verranno trattenute dalla sindaca, quindi da me stessa. Per quanto riguarda la ricerca di finanziamenti, verrà affidata al consigliere delegato a questo punto, Brocchini Riccardo, proprio per il suo ruolo che ha avuto e che ha tuttora all'interno dell'Europa, e quindi come partner dei consiglieri all'interno dell'Europa. E per quanto riguarda il vice sindaco, proprio all'interno della maggioranza è stato fatto un percorso ben preciso, un percorso che va ancora di più, come dire, a formalizzare un impegno per il presente e per il futuro. E quindi la delega è stato individuato come vice sindaco, l'assessore Stefano Natali. Continuità, confronto con i cittadini e adozione del piano strutturale. Sono queste le priorità del neo-assessore all'urbanistica Adolfo Del Soldato. Ascoltiamolo nella sua prima intervista dopo l'ingresso ufficiale in giunta. Il seduto si va in continuità, chiaramente con quello che ha fatto l'amministrazione fino ad adesso, secondo le linee del programma della sindaca. È chiaro che con l'uscita di sesto si chiude una fase dell'amministrazione, ora se ne apre un'altra di rilancio. Per quanto riguarda l'urbanistica e l'edilizia, la priorità è un confronto con la società massarrusese sui nuovi strumenti urbanistici che dovranno essere predisposti e poi all'inizio dell'anno nuovo l'adozione del nuovo piano strutturale. Quindi un ampio confronto con la società massarrusese, le categorie, le associazioni, i comitati di frazione, i tecnici e quant'altro per un piano urbanistico che così come del resto è stato impostato sia frutto di un'ampia partecipazione della società massarrusese. E adesso una notizia di cronaca. Scontro alle prime luci dell'alba, la rotatoria italica Camaiore, intorno alle 6.30 a causa di una mancata precedenza, uno scooter guidato da una donna di 34 anni e un'auto con al volante un uomo di 60 si sono scontrate ad avere la peggio. Come spesso accade, è stato chi viaggiava sulle due ruote, la donna è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, mentre lo scooter su cui viaggiava è stato pesantemente danneggiata. Anche l'auto che vedete nella fotografia coinvolta ha riportato i segni dello scontro. La polizia municipale di Camaiore è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. E adesso andiamo al maltempo dello scorso anno. In autunno, lo ricorderete, una pesante pioggia ha devastato diversi territori della Toscana, incluso il litorale aquano e quello versigliese. Ecco, adesso arrivano finalmente i ristori per i pescatori che hanno subito i danni di quell'evento. Sono circa una settantina le imprese ittiche della provincia di Lucca e Massa Carrara che potranno beneficiare dei ristori stanziati dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per le attività colpite dalle calamità dello scorso autunno. Gli aiuti potranno variare a seconda della stazza dai 1000 ai 2500 euro per ogni singola imbarcazione. Parola di Coldiretti Lucca che dopo aver collaborato alla stesura del bando annuncia per sabato 14 settembre un incontro alla Cittadella della Pesca di Viareggio per illustrare le modalità di presentazione delle domande. È rivolto a tutte le imprese che svolgono attività di pesca che sono presenti nella provincia di Massa Carrara, di Lucca e di Pisa e che quindi hanno subito danni in seguito a questi eventi alluvionali. In particolare sottolineiamo le imprese della D'Arsia di Viareggio che a causa di questi eventi alluvionali non sono costruite uscire per diversi mesi perché c'è stato, come sappiamo, l'insabbiamento del porto. Le domande potranno essere inviate telematicamente dal 10 settembre al 31 ottobre ma non tutti i pescatori viareggini potranno essere risarciti. Purtroppo ancora una volta le cooperative di servizi, quindi Copave e Cittadella della Pesca sono state escluse da Ristori. Purtroppo come struttura non veniamo associate e riconosciute come impresa di pesca per cui anche questa volta siamo rimasti fuori anche se siamo quelle che poi alla fine sostengono il settore e la categoria. Il bando completo è a disposizione sul sito della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ed è rivolto alle imprese individuate dal codice ATECO ISTAT 0311. E a proposito di maltempo, il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini ha firmato un'ordinanza che vieta la frequentazione dell'alvio del Serra per tutto il mese di settembre in caso di allerta meteo anche gialla, così come prende l'eventuale chiusura al transito veicolare in caso di situazioni di particolare gravità per il rischio di caduta di alberi, frani e smottamenti. Il provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto che con il perdurare del bel tempo nel mese in corso il torrente sarà presumibilmente ancora meta di turisti con questa ordinanza quindi in caso di allerta meteo anche giallo non si potrà accedere all'alveo del fiume. E adesso torniamo sulla costa perché con l'ampliamento del porto di Marina di Carrara ci sarà ancora più erosione, lo dicono i paladini a Puoversigliesi. Arrivati a settembre e con la consapevolezza che si avvicina all'ora del verdetto per il nuovo piano regolatore del porto di Marina di Carrara i paladini a Puoversigliesi che da sempre si battono per la tutela ambientale e la valorizzazione culturale del territorio fanno il punto sull'ampliamento del porto e sull'elusione della costa. Noi non siamo contro una razionalizzazione del porto ma altrettanto non vogliamo che sparisca tutto il litorale che come si vede anche qua, magari ad un ripascimento che è stato fatto a pezzi certamente non è stato fatto, adesso siamo al punto di partenza e si sono perse decine, decine e decine di metri di spiagge. Allora il problema vero è che se viene ampliato il porto l'erosione non si ferma, anzi accelera. Un primo passo potrebbe essere, secondo i paladini, eliminare il progetto del prolungamento del mollo di sopraflutto per le crociere che porterebbe all'incremento dell'erosione. Di tutta l'operazione che prevede il raddoppio del piazzale città di massa la realizzazione di una nuova banchina, quella in realtà, secondo tutti i tecnici e gli accademici, è molto pericolosa, è proprio il prolungamento di 450 metri del mollo di sopraflutto. Le crociere sono una buona cosa, sì, però non producono turismo, producono escursionismo e sappiamo benissimo, queste sono medie, mica le facciamo noi, sono 50 euro per passeggero che scende. Se per 50 euro per passeggero noi vogliamo distruggere 3 miliardi e mezzo di euro di patturato all'anno, qualcuno prenda contezza di questa cosa e prendere la responsabilità. Questa sera alle 21.30 Noi TV trasmetterà la replica dello spettacolo organizzato dai paladini apoversigliesi, andato in scena lo scorso 5 maggio con grande successo al Teatro Guglielmi e dedicato al documento storico-scientifico del 1802 reperito nell'archivio di Stato a massa. La rappresentazione intitolata il sentimento di Boscovic dinanzi al ministro del Duca di Modena è stata ideata proprio da Orietta Colacicco e ha il patrocinio dei comuni di Massa e di Forte dei Marmi. Lo spettacolo riflette sulla razza di un porto in territorio apuano, secondo la scienza di ieri e di oggi, partendo appunto dal documento del 1802 e elaborato in uno spettacolo dai paladini. Quindi da non perdere questa sera alle 21.30 su Noi TV. E adesso ci spostiamo a Via Reggio perché da Via Salvi parte una lettera al sindaco per mettere in sicurezza i pini. Dovrebbero iniziare a stretto giro i lavori di rifacimento di Via Savi nel tratto tra Via Menini e Via dei Pescatori. Un intervento atteso e auspicato da commercianti e residenti visto lo stato in cui versa la strada. Secondo l'associazione Darsi c'è un però. La sistemazione prevede infatti l'abbattimento dei pini, una ventina, presenti sulla via e la loro sostituzione con degli oleandri come quelli già presenti nel tratto subito Piamonte della strada. Un cambio che, secondo l'associazione, è tutt'altro che equo. Questi sono pini di circa 200 anni più o meno e costituiscono un corredo urbano incredibile e forniscono ombra alle attività ai residenti in questa bellissima via del porto e onestamente sostituire con degli oleandri ci sembra una cosa insufficiente. Vorremmo, se è possibile, un incontro con il sindaco se possono produrre i documenti ufficiali con la perizia così possiamo capire meglio come risolvere in cooperazione con loro questa questione. Di qui la lettera aperta al sindaco di Viareggio in cui l'associazione cita, a mo' di esempio virtuoso, il progetto di riqualificazione di piazza Viani, sempre a Viareggio, dove i pini saranno preservati. A proposito di lavori pubblici, a Pietrasanta sono iniziati gli interventi da 600 mila euro per la riqualificazione del percorso pedonale tra via Benedetto Croce e il quartiere Africa. Si tratta di un percorso con una colorazione ben visibile, protetto e più ampio per collegare in sicurezza l'abitato di via Benedetto Croce alle vicine aree commerciali del quartiere Africa. L'intervento è iniziato mercoledì 4 settembre con lo smantellamento del vecchio marciapiede. Il costo totale è, come abbiamo detto, di circa 600 mila euro e il progetto è stato condiviso con gli abitanti della zona grazie alla mediazione del consigliere Giacomo Vannucci. Nelle opere è rientrata anche l'asfaltatura di via Pisanica nel tratto compreso fra il campo di Atletica e via del Barcaio. Adesso andiamo alla cultura perché nonostante il maltempo è iniziato con un tutto esaurito il festival Convivere a Carrara. Nonostante l'allerta meteo che ha reso necessario un inedito debutto al chiuso, l'apertura dell'edizione 2024 di Convivere Carrara Festival ha registrato il tutto esaurito. A fare gli onori di casa all'interno del cinema Garibaldi il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara promotore dell'iniziativa Enrico Isoppi la sindaca di Carrara Serena Arrighi ed Emanuela Mazzi, direttrice del festival. Il nostro progetto principale, quello che è arrivata alla 19esima edizione, quello su cui hanno lavorato chi ci ha preceduto, a cui ha lavorato e ha lanciato il professor Bodei a cui va sempre il nostro pensiero, il nostro compito è portarlo avanti per il valore culturale che ha ma anche per il valore di promozione di tutto il territorio che dà. Quest'anno sicuramente ci sono le novità legate alle location che sono più disseminate sul nostro territorio. C'è un grande coinvolgimento di tutte quelle che sono le realtà locali che è sempre stato fatto quest'anno ancora di più, quindi ci aspettiamo assolutamente che tutta la popolazione a Corra Numerosa possa godersi questa bellissima festa. L'edizione di quest'anno avrà come tema il cambiamento e vedrà la consulenza scientifica di Mauro Ceruti che in occasione dell'inaugurazione ha tenuto la prima conferenza presentata dalla giornalista Cristina Lorenzi. Nessuno oggi si può salvare da solo, abbiamo bisogno di un cambiamento di visione, di paradigma per affrontare questo mondo. È difficile, il probabile non va verso soluzioni positive, verso un progresso, però il probabile non è il necessario. Abbiamo bisogno, a partire soprattutto dall'educazione, di cambiare le nostre visioni. Abbiamo aperto con una notizia da Massarosa. Chiudiamo con una notizia da Massarosa perché domani nel Comune iniziano le celebrazioni per la liberazione. Massarosa si prepara alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della sua liberazione dalle forze nazifasciste. Questo evento storico verrà commemorato con una serie di cerimonie solenni che prenderanno il via venerdì 7 settembre con una conferenza dal titolo L'Eccidio di Compignano e lo sfollamento di Massaciuccoli al centrovisite La Brilla Chiesa alle 16.30 e che vedrà la partecipazione di numerose autorità locali. Tra i partecipanti di spicco, il generale di corpo d'armata del Brasile, Umberto Montenegro. La presenza del generale brasiliano è significativa poiché ricorda il contributo della forza espedizionaria brasileira durante la Seconda Guerra Mondiale, una divisione militare che combattì in Italia a fianco delle forze alleate contro il regime nazifascista. Massarosa sta per iniziare un periodo di grandi celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della liberazione. C'è stato un comitato, c'è tuttora un comitato organizzatore che se ne sta interessando, tra cui l'amministrazione comunale, con il consigliere delegato alla cultura d'olfo del soldato, con l'AMPI e con altri esponenti dell'autorità brasiliane, il nostro referente Marco Lucchesi in Brasile. Iniziamo domani con una presentazione di inaugurazione alla Brilla per proseguire durante la settimana con tante e tante belle iniziative da presentazione di libri, da conferenze che si tengono nei vari posti di Massarosa per finire al 21 di settembre con la proiezione di un film. Il programma di celebrazioni ha il patrocinio della Biblioteca Nazionale del Brasile, della provincia di Lucca, del comune di Massarosa e di altri enti. È tutto per questa edizione del TG Noi Versiglia e Costa Puana. Io ringrazio Daniele Catola in regia, ringrazio voi per l'attenzione e vi invito a rimanere su Noi TV.